Io, come hai detto tu, sono Massimiliano Mori, sono uno psicologo, sono un sessuologo, sono uno psicoterapeuta in formazione e sono un formatore, nel senso che sono docente per alcuni master di specializzazione in sessuologia. Partecipo a alcuni progetti in alcuni contesti scolastici per diffondere l'educazione sessuale e far comprendere il più possibile alle persone cosa vuol dire parlare di sessualità, perché molto spesso quando si pensa all'educazione sessuale, parlare di sessuologia, si racchiude soltanto tutto nell'atto sessuale quando invece all'interno di questo termine c'è un mondo, c'è la relazione, ci sono gli affetti, c'è la conoscenza del proprio corpo che di solito vengono sempre un pochino messe da parte e non vengono mai comprese.